In diversi video passati abbiamo parlato dell'economia e abbiamo detto che per come è strutturata oggi la teoria economica, l'economia non può essere considerata una scienza. Questo sostanzialmente perché gli economisti hanno rinunciato, in generale non tutti, gli economisti, diciamo, neoliberisti, l'economia mainstream in generale, aveva rinunciato a quelli che sono due semplici principi che reggono ogni scienza. Un atteggiamento scientifico e un atteggiamento prima di tutto osservativo. Uno scienziato osserva la realtà, cerca di dare delle spiegazioni a quello che osserva, possiamo anche dire che uno scienziato cerca di costruire un modello per spiegare in qualche modo quello che osserva e poi punta a fare delle previsioni di quello che accadrà all'oggetto di studio in base al modello che egli ha costruito. Abbiamo fatto vedere come la teoria economica neoliberista si è creata, ha creato dei modelli, ma questi modelli sono risultati essere falsi, nel senso che non hanno avuto la capacità di predire le crisi economiche che negli ultimi 60 anni, nell'ultimo secolo, eccetera, ci sono state. è stata talmente, come si può dire, è stata talmente eclatante, è stato talmente eclatante il fallimento della teoria economica neoliberista che dal 2008, 2009 e qualcuno ancora prima ci si è accorti, tra gli economisti e non solo, che era necessario compiere un vero e proprio cambiamento del paradigma delle teorie economiche di cui si stava facendo uso per così dire in tutti gli studi economici. Ora, c'è stato questo cambiamento di paradigma che ci sia stato e che sia in uso un nuovo paradigma della teoria economica a tutti i livelli nel mondo per ora non è vero. Non c'è questo cambiamento di paradigma. O almeno gli economisti non fanno tutti uso universalmente di un nuovo paradigma della teoria economica. Però ci sono dei tentativi ecco che hanno avuto un qualche successo e questi tentativi riguardano un approccio all'economia attraverso la complessità gli studi sulla complessità. Queste teorie che possiamo dire teorie della complessità economica sono riuscite a creare e a costruire dei modelli e questi modelli riescono a fare delle previsioni almeno su scala macroeconomica. Oggi presenterò la teoria della complessità economica per come è stata pensata da Luciano Pietronero Tacchella Andrea e Cristelli Matti Cristelli Andrea Tacchella Luciano Pietronero Luciano Pietronero è presidente del CREF che è il centro di ricerche Enrico Fermi che si trova a Roma perché è interessato vado a fare una ricerca su Google e vede più nel dettaglio di chi si tratta naturalmente sono stati presentati da Luciano Pietronero e gli altri diversi studi nei diversi anni a partire mi sembra dal 2009 nel 2011 so che nel 2015 so che Luciano Pietronero appunto aveva fatto delle previsioni e queste previsioni furono confermate e Luciano Pietronero è appunto un è laureato in fisica ormai è in pensione quindi avrà superato sicuramente i 60 anni non so l'età e si è interessato appunto nella sua vita sia di complessità dei sistemi biologici e sia di complessità in economia nel business credo che abbia lavorato proprio per alcune aziende prima di diventare come ora è diventato presidente del centro di ricerche Enrico Fermi ora presento appunto questo questo studio che si inserisce in una corrente di pensiero economico che mira ad introdurre le teorie della complessità in economia altri due nomi importanti sono Idalgo e Dossman perché è interessato fa le sue ricerche e vede di che cosa si tratta proprio perché rientra così dire nell'ambito dei video che noi stiamo facendo che riguardano appunto la complessità nelle sue diverse esplicazioni nelle sue diverse dimensioni e applicazioni ora naturalmente questo è un esempio uno dei tanti esempi che si possono portare su come applicare la teoria della complessità all'economia ce ne sono moltissimi altri però questo ha riscosso una certa un certo successo proprio quel che ha avuto la capacità di prevedere per esempio per esempio l'andamento del pil della cina dopo il 2015 all'incirca no è riuscito a dire che il pil della cina non si sarebbe non si sarebbe abbassato per esempio mentre tutti gli altri economisti pensavano che dopo 40 anni 30 anni 40 anni di crescita il pil della cina doveva in qualche modo conoscere un arresto un abbassamento doveva abbassarsi ecco come riuscì Luciano Pietronero a dire no guardate che il pil della cina non si abbasserà ecco vedremo con molta modestia nel nostro piccolo in qualche modo perché Luciano Pietronero e i suoi compagni di ricerca riuscirono invece a fare la giusta previsione bene cominciamo con il leggere appunto l'introduzione la leggo insieme a voi l'introduzione che Luciano Pietronero fa del suo articolo forse più conosciuto un attimo che lo trovo eccolo forse l'articolo più conosciuto di Luciano Pietronero è a new matrix for countries fitness and products complexity a new matrix for countries fitness and products complexity quindi una nuova metrica per la fitness dei paesi e la complessità dei prodotti questo articolo è stato fatto da Andrea Dacchella Matteo Cristelli Guido Caldarelli Andrea Gabrielli e Luciano Pietronero allora leggiamo un attimo l'inizio l'introduzione l'abstrat di questo di questo lavoro le teorie di l'economia classica prescrivono la specializzazione nella produzione industriale dei paesi ogni paese per l'economia classica è meglio che si specializzi nella produzione di determinati prodotti l'ispezione del database dei prodotti esportati mostrami che questo non avviene cioè il successo dei paesi i paesi di successo sono estremamente diversificati nella loro produzione in analogia con i biosistemi che si evolvono in un ambiente dinamico competitivo la sfida è quindi valutare quantitativamente il vantaggio competitivo non monetario della diversificazione che rappresenta il potenziale nascosto per lo sviluppo e la crescita noi qui sviluppiamo dice appunto dicono questi economisti noi qui sviluppiamo un nuovo approccio statistico basato sull'accoppiamento di mappe non lineari il cui punto fisso i cui punti fissi definiscono una nuova metrica per il fitness dei paesi e la complessità del prodotto mostriamo che un'iterazione non lineare è necessaria per legare la complessità dei prodotti al fitness dei paesi meno competitivi che li esportano mostriamo che dato il paradigma economico della complessità economica e voglio sottolineare qui viene usato proprio il termine paradigma quindi questi signori sono coscienti che ciò che loro dicono può costituire un cambiamento di paradigma negli studi economici quindi noi mostriamo che dato il paradigma della complessità economica l'approccio più semplice e corretto per misurare la competitività dei paesi è quello presentato in questo lavoro quindi questi signori in una nuova metrica per la fitness dei paesi nell'articolo a new metrics for countries fitness and products complessi dicono guardate che qui noi stiamo presentando un nuovo paradigma economico che riesce a spiegare la competitività dei paesi o il nesso la connessione tra competitività dei paesi e connessione tra la competitività dei paesi e complessità dei prodotti esportati da questi paesi questo qui è inoltre continua nell'astrat inoltre la nostra metrica appare essere economicamente ben fondata ora io cercherò di essere chiaro per quanto è possibile nell'esposizione di questo lavoro e nello stesso tempo di essere sintetico allora dicevamo che l'approccio usato da questi signori è un approccio propriamente scientifico perché perché Luciano Pietronero viene dalla fisica sa benissimo che il primo passo da fare per la costruzione di una teoria fisica è l'osservazione e la prima cosa che Luciano Pietronero ha fatto è osservare osservare che cosa osservare la complessità dei prodotti che vengono esportati dai diversi paesi in rapporto ai paesi che li esportano e se questi paesi che li esportano oltre ad esportare quel prodotto un particolare prodotto ne esportano altri e quanti sono i prodotti esportati e quali sono i prodotti esportati da queste osservazioni viene fuori viene costruita la matrice country product e qui vediamo prima di farvela vedere questa matrice vediamo secondo il paradigma il vecchio paradigma della teoria economica ricardiana per cui dire no neoliberista neoclassica quella mainstream i paesi che producono dovrebbero specializzarsi nella produzione di certi prodotti quindi noi dovremmo avere per esempio il paese A che produce soltanto in un certo settore poi dovremmo avere il paese B che produce soltanto in un certo altro settore perché ognuno di questi paesi secondo la teoria appunto neoclassica dovrebbe specializzarsi per essere più competitivo per essere più competitivo ogni paese dovrebbe specializzarsi in un certo settore di produzione e quindi tralasciare gli altri settori di produzione così la competitività in un certo settore aumenta e in quel settore non è per così dire in una classifica al primo posto e quindi poi poi da questo dovrebbe derivare un aumento dei redditi e un aumento del benessere di quel paese che così si è specializzato ecco questo ci dice la teoria economica su come dovrebbero stare le cose secondo la teoria quindi primo primo punto questa non è una teoria scientifica perché non è una teoria che parte dall'osservazione mentre appunto questo nuovo approccio all'economia deve partire dall'osservazione cosa ci dice l'osservazione osservare in una matrice costruita in modo tale che sull'asse orizzontale avremo i prodotti ordinati secondo una loro complessità e sull'asse verticale i paesi che producono questi prodotti non abbiamo una matrice a blocchi ma abbiamo una matrice triangolare ecco ora andiamo a vedere bene come quali sono i dati dell'osservazione su questa matrice ora osserviamo secondo uno scenario in cui i paesi si specializzano nella produzione di certi prodotti avremo una matrice a blocchi di questo tipo cosa significa questa matrice allora sulle ordinate avremo i paesi produttori sulle ascisse avremo questi prodotti diciamo che segniamo un puntino nero se il paese che si trova x qui per esempio che ne so qui abbiamo un paese produce un certo prodotto e allora avremo il puntino nero sì qui avremo un altro prodotto e avremo un altro puntino lo produce altrimenti vi è un puntino bianco chiaro allora perché questi blocchi sono più scuri perché alcuni paesi producono tutto ciò che riguarda un certo settore un certo intervallo di prodotti ok se per esempio in questo settore avremo prodotti tessili i paesi che si trovano in questo su questa ordinata così ordinati produrranno il tessile quelli che si trovano su quest'altra su questa ordinata qui produrranno tutti i prodotti che riguardano un altro settore possiamo immaginare qui no immaginare come le abbiamo ordinati appunto questi prodotti indipendente in questo caso come abbiamo ordinato i prodotti al limite se cambiamo l'ordine dei prodotti cambieremo semplicemente l'ordine dei blocchi chiaro? perché appunto questa è una matrice diagonalizzata a blocchi se cambiamo l'ordine di questi blocchi sostanzialmente non cambia niente rimane una matrice ordinata a blocchi ok quindi quindi se per così dire l'economia andasse secondo quella che è la prospettiva dell'economia neoclassica dovremmo avere una matrice country product fatta a blocchi in questo modo ma le cose vanno realmente così? no l'osservazione ci dice un'altra cosa la matrice non è fatta a blocchi ma è una matrice triangolare lo potete vedere anche appunto su questo disegnino qua dove noi avremo qui avremo i country i paesi e qui avremo i prodotti e ripeto pensate i prodotti come ordinati secondo il grado di complessità per esempio qui possiamo avere le bottiglie di plastica in questo punto che vi sto indicando e qui dobbiamo avere un computer ok perché all'aumentare della scissa del numero che ordina la scissa aumenta il grado di complessità del prodotto di sofisticazione del prodotto ma questa matrice triangolare che cosa ci dice che non ci sono i blocchi cioè che i paesi non producono semplicemente specializzandosi nei diversi settori avremo qui in alto un paese che produce vedete quasi tutto nero che produce tutto cioè che produce sia il prodotto a bassa complessità sia il prodotto ad alta complessità per ora non abbiamo definito di che cosa si tratta quando diciamo complessità non abbiamo detto di che cosa si tratta appunto perché la complessità e allora come lo dobbiamo pensare pensiamo semplicemente di avere costruito questa matrice nel seguente modo abbiamo ordinato i paesi che producono in modo che sulle ordinate più basse avremo i paesi che producono meno tipi di prodotti sulle ordinate più alte avremo paesi che producono più tipi di prodotti non stiamo parlando di quantità di prodotto ma di tipo di prodotto per esempio in basso avremo un paese che produce soltanto patate patate a metà avremo un paese che produce patate e matite in alto avremo un paese un po' più in alto avremo un paese che produce patate matite e lampade più in alto ancora avremo un paese che produce patate matite lampade e orologi al quarzo ecco vi faccio un esempio quando noi li ordiniamo in questo modo quindi abbiamo ordinato sulle ordinate i paesi che producono in modo crescente più tipi di prodotti costruiamo appunto una matrice di questo tipo ci accorgiamo che la matrice country product è una matrice triangolare esistono esistono realmente queste matrici no? nel senso che queste sono soltanto due esempi due esempi due disegnini ma queste matrici angolari sono state costruite appunto con i numeretti che competono quindi per esempio qui potremmo avere la Germania o la Cina in questa posizione qua e qui avremo i diversi prodotti e in basso potremmo avere per esempio la Nigeria perché la Nigeria produce pochi niente produce pochi prodotti ora la prima cosa che salta all'occhio nel vedere una matrice di questo tipo è che la Germania produce pure le patate quindi che si trova un prodotto a bassa sofisticazione insieme che ne so ha le migliori lavatrici del mondo ok che è un prodotto ad alta sofisticazione cioè la Germania non si è dico la Germania perché è the top la Germania non si è specializzata nella costruzione di prodotti o nella produzione di prodotti sì ad alta complessità ma produce soltanto quelli di fatto produce un po' di tutto produce anche quelli meno produce anche quelli meno meno sofisticati meno complessi quindi di fatto l'osservazione di questa matrice county product ci dice che di fatto l'economia non va non segue quello che dice la teoria neoclassica i paesi producono ma non si specializzano nella produzione non si specializzano non producono soltanto determinati prodotti e lasciano perdere tutti gli altri diversificano ecco questo qui è questa è la parola fondamentale diversificano la loro produzione quindi quindi capiamo meglio quello che ci diceva all'inizio nell'abstract dell'articolo diversificano in analogia con i biosistemi che si evolvono in un ambiente dinamico competitivo quindi vi è competizione tra i paesi ma la produzione e quindi la produzione di questi paesi è diversificata proprio perché l'ambiente in questo caso parliamo di ambiente economico è un ambiente di tipo competitivo e proprio come fanno gli organismi viventi che si adattano ad un ambiente competitivo puntano alla diversificazione proprio come i biosistemi che si evolvono ora quindi abbiamo visto ecco abbiamo osservato che i paesi più competitivi prendiamo ad esempio pensiamo sempre alla Germania o alla Cina i paesi più competitivi non si limitano e non si specializzano semplicemente nei settori di produzione di articoli oggetti ad alta tecnologia pensate a questo ecco no ma continuano a produrre pure le patate pure il lupolo ok Germania continua a produrre pure il lupolo e le patate è la Nigeria che produce soltanto che ne so le patate non so se produce patate o la Nigeria però è la Nigeria che produce soltanto le patate ok perché produce soltanto le patate perché non perché si specializza in quello ma perché non vi è al momento ho fatto un esempio e niente di che ma quei paesi che il nocciolo della questione è questo i paesi che riescono a produrre soltanto un limitato numero di tipi di prodotti non producono gli altri tipi di prodotti perché viene a mancare che cosa conoscenza in qualche modo quindi bisogna misurare l'indice un indice bisogna creare costruire pensare un indice di conoscenza ma quest'indice di conoscenza a che cosa lo si può legare se non come dato macroeconomico se non alla competitività come lo possiamo misurare l'indice di conoscenza della Nigeria se non alla competitività che la Nigeria dimostra sui mercati seguite bene il ragionamento che ora è importante quindi l'indice di conoscenza presente per così dire nel paese che abbiamo preso ad esempio la Nigeria chiamiamolo X nel paese l'indice di conoscenza dei paesi che producono pochi tipi di prodotto come lo possiamo misurare dal punto di vista macroeconomico misurando il livello di competitività della abbiamo detto nigere rispetto alla Germania quindi misurando in qualche modo la fitness la capacità di prestazione la prestazione a livello economico sul mercato mondiale della Nigeria nei confronti della Germania questo è una misura dell'indice di conoscenza si potrebbe anche dire di quello che Marx diceva il general intellect di un paese ok ma questo vediamo che è legato alla complessità del prodotto perché è legato alla complessità del prodotto perché la Germania produce prodotti sofisticati ma produce anche le patate nel senso che le produce tutti quindi abbiamo che l'indice di conoscenza general intellect quello che per Marx era il general intellect era è legato alla fitness di un paese ma la fitness di un paese in qualche modo è legata alla complessità quindi alla fitness di un paese che noi dobbiamo pensare come legata alla quantità di tipi di prodotto prodotti da questo paese e anche alla complessità dei prodotti che vengono prodotti quindi la Germania produce dalle patate al computer quindi produce tutto la Nigeria produce soltanto le patate dal fatto che la Germania produce dalle patate al computer ne viene fuori una maggiore competitività della Germania rispetto alla Nigeria ma non solo dal fatto che la Germania produce dalle patate al computer viene fuori che è capace la Germania alla capacità di produrre prodotti complessi e dal fatto che la Nigeria produce soltanto le patate non ha la capacità di produrre prodotti complessi quindi dal numero di tipi di prodotto prodotti da un paese noi possiamo ottenere sia una misura della fitness quindi della prestazione di un paese sia una misura della complessità dei prodotti prodotti da questo paese ed è su questo ragionamento che si fonda l'algoritmo di Luciano Pietronero vediamo ancora la nostra matrice country products qui abbiamo come dicevamo prima i prodotti classificati come semplici mano a mano avremo prodotti sempre più complessi qui abbiamo i paesi sotto sviluppati e mano a mano saliamo fino alla classificazione dei paesi sviluppati quindi passiamo da paesi con minore fitness a paesi con una fitness sempre maggiore i paesi con una fitness maggiore producono quindi avremo sempre più puntini neri riguardo a loro maggiori tipi di prodotti i paesi con una fitness minore producono prodotti meno complessi e mano a mano che aumentano la loro fitness aumentano aumentano il tipo di prodotti e mano a mano che aumenta il tipo di prodotti aumentano naturalmente la loro capacità di produrre prodotti più complessi questi sono i dati dell'osservazione ripeto come fa la scienza la scienza osserva ecco perché questo tipo di approccio un approccio di tipo scientifico all'economia da queste osservazioni nascono nasce l'algoritmo di Pietro Nero che misura la fitness dei paesi e la complessità del prodotto in maniera molto semplice la fitness del paese c viene misurata come somma su p somma sui prodotti tipo di prodotti ripeto no per esempio diciamo dei casi banali un paese molto mediamente competitivo produce 150 tipi di prodotto un paese meno competitivo produce soltanto 30 prodotti ok quindi a livello zero senza sapere altro noi possiamo dire che il paese misuriamo la fitness del paese che produce 100 prodotti come pari a 100 la fitness del paese che produce 30 prodotti come pari a 30 questa matrice mcp è costruita nient'altro che questa matrice qui nient'altro che questa matrice qui ed è come è costruita è costruita in modo tale che mcp vale 1 se il paese c produce il prodotto p 0 altrimenti naturalmente questa valutazione è fatta in base ad indici di tipo economico e su questo non scendiamo nel dettaglio basta dire che c'è un indice rca se l'indice rca supera una certa soglia allora diremo che il valore della mcp vale 1 se al di sotto di quella soglia vale 0 schematicamente possiamo dire se il paese c produce il prodotto p vale 1 se il paese c non produce il prodotto p vale 0 ripeto e abbiamo quindi definito la fitness del paese c in prima approssimazione a livello 0 quindi quando questo n qui primo grado grado 0 di iterazione come somma quindi come numero totale di prodotti di tipi di prodotti prodotti da un certo paese quello che ne produce 100 dicevamo a fitness 100 quello che ne produce 30 a fitness 30 naturalmente dovremmo pesare ognuno ognuno dei valori della matrice quindi ognuno dei valori della matrice rispetto al grado ad una qualche forma di misura della complessità del prodotto prodotto no cioè è normale che io nella fitness di un certo paese non conti nella misura della fitness di un paese non conti una bottiglia di plastica quanto un computer cioè il fatto che un certo paese ci produca un computer non può contribuire al conteggio della fitness tanto quanto contribuisce al conteggio della fitness il fatto che quel paese produca una bottiglia di plastica la fitness di quel paese se lo pensiamo come un indice di conoscenza alla fitness di quel paese deve contribuire di più il fatto che quel paese produca un computer e di meno il fatto che quel paese produca una bottiglia di plastica quindi quell'uno della matrice MCP per quanto riguarda il prodotto P che per esempio è il computer deve pesare di più in questa somma nel conteggio della fitness e di meno il fatto che quel particolare P sia invece una bottiglia di plastica indichi una bottiglia di plastica o una patata o un sacco di terra ok ancora di meno il problema è quindi ora quindi dobbiamo pesare il contributo alla fitness di un certo paese dovuto ad un certo prodotto lo dobbiamo pesare con la complessità del prodotto e qui abbiamo la seconda parte del dell'algoritmo di Pietro Nero che cosa e qui abbiamo l'introduzione del termine non lineare no all'algoritmo che cosa accade qui ora se noi vogliamo una valutazione economica della complessità di un certo prodotto come come misuriamo dal punto di vista economico la complessità di un certo prodotto che non sia diciamo una misura molto difficile sempre basandoci su questa matrice su su come è costruita su come è fatta questa matrice appunto perché è una matrice triangolare noi cogliamo ripeto in questa matrice che i paesi meno sviluppati producono soltanto prodotti più semplici e ne producono di meno di prodotti ora come vedete nell'algoritmo avremo la somma su c di mcp quindi qui stiamo parlando della complessità di un certo prodotto p abbiamo uno diviso se ci sono per esempio tutti i paesi che producono il prodotto p questo mcp se lo producono tutti è uguale al numero di paesi però ognuno di questi produce questo prodotto con una sua fitness lo produce pure il paese magari meno sviluppato di tutti ok produzione di bottiglie d'acqua produzione di patate produzione di patate magari di patate non lo so ma chi va a contribuire alla complessità di questo prodotto qui supponiamo che lo producono in 100 supponiamo che questo è prodotto da 100 paesi la fitness al grado 0 per esempio del paese che produce solo quello è 1 ok mentre la fitness di quelli che producono 100 sarà per esempio 100 quindi questo paese ha al grado 0 abbiamo detto calcoliamo questa fitness al grado 0 ha una fitness 100 l'altro ha una fitness pari ad 1 che succede? avremo la somma su C di MCP abbiamo detto che li producono tutti e qui avremo 100 e la fitness del paese che produce solo quello quindi a bassa fitness avrà 1 la complessità di questo prodotto in questo caso sarà 1 centesimo perché circa 1 centesimo perché il contributo che darà la fitness di quel paese che produce 100 altri prodotti sarà di 1 centesimo sarà molto bassa che significa questo che quella avremo per esempio la somma dei due termini 1 diviso 1% e 1 centesimo in ultima analisi questo è il termine non lineare in poche parole la complessità del prodotto è data sostanzialmente dalla fitness del paese meno sviluppato del paese con meno fitness e quindi la complessità del prodotto sarà molto bassa un altro esempio a parola è questo i chiodi li produce la Nigeria li produce la Germania ma la misura della complessità dei chiodi è data dalla fitness della Nigeria sostanzialmente e quindi è dato da una bassa complessità siccome la Nigeria non produce computer ma sono pochi i paesi che producono computer e per semplificare pensiamo soltanto alla Germania la complessità del computer è data sostanzialmente dalla fitness della Germania e quindi la complessità del prodotto è molto alta quindi questo è un termine lineare qui avremo la parte non lineare del nostro del nostro algoritmo bene che cosa predice o che cosa cerca di predire grazie a questo la teoria di Pietro Nero ora lo andiamo a vedere vediamo vediamo come questa teoria può aiutarci a predire l'andamento del PIL in diversi paesi che presentano un PIL simile allora per esempio per esempio in questo grafico GDP sta per PIL e questa è la fitness vediamo la profonda diversità che vi è fra la coppia Cina India e la coppia Brasile Russia queste sono le specifiche dei PIL all'incirca pensiamo questi quattro paesi vedete hanno il PIL all'incirca che ha un andamento per esempio vedete questo qui è quello della Cina ha un andamento ad esempio costante poi aumenta un andamento un po' costante eccetera e questo nero è quello lì dell'India aumenta ma non in maniera eccessiva all'incirca costante è addirittura al di sotto di quello del Brasile poi avremo quello della Russia che è questo qui poi avremo quello del Brasile dall'andamento dei PIL diciamo è difficile dire quale sarà l'andamento futuro di questi PIL utilizziamo ora invece la classifica in base alla fitness ok quindi abbiamo detto Pietro Nero grazie al concetto di complessità definisce questo parametro che è la fitness di un certo paese poi questa fitness dei paesi può essere misurata e che cosa notiamo notiamo che la Cina ha un fitness che aumenta nel tempo notiamo che l'India come potete vedere ha avuto un incremento della propria fitness e poi questa fitness si mantiene costante e abbiamo invece che il Brasile parliamo degli anni che vanno dal 96 al 2010 il Brasile ha questo tipo di andamento del fitness e poi una caduta la Russia ha un fitness basso e poi dal 2002 2003 addirittura una caduta fino al 2010 ora che cosa si può predire beh si può predire che il PIL che abbiamo registrato in quegli stessi anni del Brasile e della Russia non può essere dovuto ad un aumento dell'indice di conoscenza quindi non può essere dovuto per così dire ad una fitness produttiva industriale vera è una grande competitività industriale per esempio per il Brasile ma deve essere semplicemente dovuto all'esportazione di materie prime alla speculazione per esempio sui mercati finanziari e lo stesso discorso si può dire per la Russia le previsioni che si possono fare a questo punto è che negli anni futuri sicuramente il PIL della Cina e dell'India aumenteranno ma proprio perché è grazie alla General Internet ripeto questo termine marxiano è grazie al General Internet che vi è in India e in Cina che vi è uno sviluppo industriale in India e in Cina che porterà ad un aumento del GDP un aumento del PIL consistente e solido cosa che invece non succederà per il Brasile e per la Russia se non cambiano la loro fitness e questa è una previsione inoltre sono stati costruiti questi diagrammi che sono molto molto interessanti lo spieghiamo velocemente qui c'è il logaritmo della fitness sulle ascisse e sulle ordinate avremo il logaritmo del PIL GDP pro capite ora se noi ci troviamo in quest'area quindi con un fitness abbastanza alto l'andamento nel tempo sarà di tipo laminare cioè i paesi si preparano per così dire ad uno sviluppo industriale e poi aumenta il PIL pro capite l'andamento di queste frecce vedete va da sinistra da sinistra e poi aumenta sinistra destra verso l'alto laminare perché questo è un andamento per così dire non caotico seguono appunto questa questa via seguono appunto questa traiettoria i paesi invece poi c'è una zona che è questa zona qui ok dove si può passare da una condizione di sviluppo non caotico laminare ad una condizione invece di sviluppo dell'economia vera e propria ma dove si può anche per così dire sembra diminuire la propria fitness mentre qui avremo tutti i paesi a rischio economico troppo bassa la fitness attenzione e troppo alto l'epil pro capite ecco un altro diagramma per poter prevedere se naturalmente un paese si trova da queste parti e qui questo paese potrebbe essere soggetto a crisi a forti crisi economiche se un paese si trova in questa zona della traiettoria questo paese si sta sviluppando aumenterà il pil pro capite perché perché c'è stata la preparazione di un fitness adeguato alla crescita e alla competitività appunto avremo in questa zona qui un regime laminare mentre tutta quanta questa zona qua entrerà in un regime caotico i paesi che si trovano in questa posizione permettono un'alta predicibilità si possono fare delle previsioni abbastanza certe sui paesi che si trovano in questa zona invece per i paesi che si trovano in questa zona la predicibilità è bassa ok per ora ho portato un esempio ho voluto portare soltanto un esempio di come gli studi sulla complessità possono essere utili all'economia affinché l'economia possa finalmente considerarsi una scienza a presto e grazie a presto